e ritrovati mattacchioni qui lega gamers io sono jo the summoner che già vedete sono qui pronto a rincorrere i pesciolini e io sono tao ok allora tocca a me questo giro continuo quindi da dove ha lasciato il nostro collega mi rai e non devi fare il doppio salto si è messo di sì però ero già dimenticato è un attimo che perché carburo vedo 4 tassi sono quelli dai cos'è quello a cose inutili cose inutili scusa arma a media saliva mia che qualcosa attenzione vediamo così lo voglio un attacchione guarda che roba ok questo è andato vai piglielo tanto quello dietro ma io volevo combattere comunque a mani nude che mi sa che è figo ma che te le piglie basta aia cacchio devo schivare comunque quelle uno si fa r1 r1 scusa allora state bono agazzaro guarda che bastardo due attacchi devi fare e li prendi pure così rubagli l'arma che quella ti piace tanto vabbè dai no ormai è denudato è in combo era ormai stacci loro ora guarda mi ha tolto la guardia mi ha tolto e si ha mirato basso ecco e certo no ma andate la fan ah ok tutte e due in uno in uno no cacchio eh vedi per fa guarda stai per morire eh credi non puoi morire poi lo sai che devi premere quando si 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 mi ricordo che devi prendere tutto 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 l1 r1 e quadrato x guarda che scemo mi sono messo a fare vabbè ecco fa qualcosa di diverso dai così dietro dai che parte la carica e volate se vola ma vabbè premere tutto premi tutto bravo così vai non sei more devi pulificare poi però non mi va no per questi guarda porca puttana o se vede che non gioco che mi sono dimenticato se vuoi di riscontro io no no grazie se muoio comunque io ho capito cosa secondo me a cosa serve quelle cose che all'inizio sembravano inutili a quelle sfere arancioni secondo me servono per per fatto venire poi la cosa di trasformare mi sa che è l'ala quella sai che abbiamo preso l'ala di fuoco per la super no? quella di farlo diventa subito no boh ma che non so non mi ricordo sul libretto ci stanno due pagine manco dovevo spiegare ah oh guarda il crolla e ho visto attenzione vedi quello là tutto frammentato gioco non ci freghi dai dai niente per il mio non può romperle che non si sa mai oh guarda che abbiamo con un'epidemia o con quella suoni mi non mi pare che si chiamano questa storia una chiara se il figlio è che oggi la una armati u la roma di dritto sinistra ma che ne so Ma faccio la super scusa Come te pare? Non vale la pena Come te pare? Ma falla Tanto poi si rifa subito Aspetta Ma gli prendo l'arma A questo fuori Vediamo se Ah così vuoi fa Portacci su No così sto lontano Vediamo se no Aiaia Salta Boh Dagli che sta piegato in due Damme la stronzo E ti è E mo si è Bravo così Bravo così Guarda che stai per morire però Eh lo so L'impressione che quello Hai visto? Occhio Fa stile Sempre stile delfino Ma dove vai? Boh Eh si Eh c'è Senza Oh che vuoi Senza problemi Vuoi proprio il gioco easy Che manco ti attaccano No vabbè però Guarda quello ti spara Eh ho visto Mortaggio sua Scarica Oh è schiva Guarda che stronzo Ti dimmi Ti ma sacca quello Però devi stare attento Se muore E quindi passa No 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 Te l'ho regalata una Eh io te l'ho regalata quella con me Fini in the foco Va bene dai ok Posso farla Va bene dai Oh non la vuoi sprecare No voglio sprecare Guarda e tanto poi ritorna Ragazzi ora vedete No Oh è partita Che bike Che segue Ammazzate A me non la usiamo Ah mi la c'è la Tanto stanto si fa Senza problemi Attenzione eh Io cerco di capire Ah è passato È passato si Ok Vacevi lassù però eri a posto Credo morivamo tutti Si Guarda mummo Lo faccio venire da me Guarda Vabbè Medio pulifica Si Eccolo Ma che sei matto Che fai davanti Ah poi mi dimenticavo Di farla ritardata Ma si Eh oh devo riprendermi Scusate sono un po' rinco Vedete Dove vai dritto o Perché dove vanno O sinistra Non so mi pare che Sono due strade o no Ma io me ne vado qua Ho visto Ho visto tutte ste cosette Vai vai Ho visto tutte ste cosette Scusate Attenzione Che il Tau si destreggia Con i salti Qua è arrivato il Nephilim Eh appunto Eh Non te l'aspettavi eh Ah vabbè tanto rompe ste cose inutili No ma magari trovi la cosa del fuoco Cioè Eccolo Vedi l'hai chiamata Otto Eh che cazzo Per quello che tanto vale farle quando sta giù Travola Così dopo le trovi no Certo Attenzione Mamma mia Sono diventato poco Madonna Eccolo Tutti io Angeli E tu mori Non puoi morir così Oh Azaziel è sempre lui Quale Quello della Ma che ne so Ma che ne so Non mi ricordo manco quelli che abbiamo sconfitto Non mi ricordo le mosse che fa questo Questo è quello Della Sto a vedere Ah quello Il primo Il primo Fantasmino delle nevi Te lo dedico Va bene Vai Mamma mia Che fortuna No Ah Ho visto che è caduto Occhio C'ho sta arma di merda Qua servivano Proprio i pugni Servivano Vabbè fra un po' Penso di Faccio uscire le armi Occhio Ma non le vedi? Sì Però Se vi dai Ah aspetta Forse ho capito Purifica 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 dici Se vuoi Entudia Che hai fatto? Nel mentre Cioè raga Easy Sì pure con l'arma sbagliata Cioè E rimanco senza super pure Con l'arma sbagliata Basta cambia gioco Gio Dai Cioè Questo Ti è gioco a te Dai Non stava tirartela Cosa c'è là nel muro? Andammo nel muro Si spacca? No C'è qualcosa di strano Però lo vedi Per me con quello Dei pugni si romperà Andiamo a prendere Quello dei pugni Sì però se tanta strada Per tornare indietro Basta eh Guarda già qua Guarda già qua Guarda sto raggio di luce Figo Eh che appunto Dio ciao a quello Bella Se era un trucco Mi spiace Cioè? Che ne so Magari come Super Mario Quando venti dentro Quei dubbi Ti puoi scegliere il mondo No? Ah Vai vai Tutto piglio tutto Ma chi è che ha detto Ti sterminerò la prossima volta Lui l'angelo o tu? Boh Arma 5 Attenzione O arma blu Sembra Sono tutte lettere Per cui Io scapo Nè vero Invece sì Io sono andato Tone ad addosso Eh? C'era sta cosa? Che gli urbano Ah ok No Lo voglio uccidere Quel coso Ce ne stanno due? Da Tranquillo Gio Tranquillo Prendo l'arma giusto Al momento giusto E spacca tutti Guardalo L'ho denudato tutto Complitto Boom 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 Mamma mia Te disintegro Mamma E adesso vengo pure da te Perché con un colpo così Certo Insomma A me mi hanno messo I nemici forti A te quelli deboli Non ho capito Stai a ludicare Perché sto a giocare bene E tu no? Sì A voglia Stai preso? No Ah stava imparata Ce n'è solo uno davanti a me Ed è anche easy Ma vedete Così se gioca Verifica Devi stare tranquillo Capito Cioè qua Spacco tutti Chi è che ride? Chi è che ride? Spacco eh Spacco angeli Ma cos'è? Oh è cambiato Bella Il profeta No profeta Mi sa a giro Oh una creatura gigantesca avanza scivolando sull'acqua È un nefilin figlio di un umano e di Armaros È un tipo molto pacifico e la gente non lo teme perché lui non odia il mondo Ha ereditato la natura di suo padre e per questo ama la gente ed il mondo in cui vive Ok Ottimo no? Quindi non ci dobbiamo preoccupare Ah quindi quelle nefilin Ah è quello dietro qua Oh bellissimo! Sembrava una medusa Oh? No? C'è paura dei medusaggi? Sì porca troia Beh io pure quando vado all'armare No Ma donna quant'è mamma hanno preso pure no T'hanno preso C'è finito in mezzo Non so una ma preso un altro angelo Mamma mia è blu questo ho visto male No è sempre Ezekiel Vai che te spacco pure a te Ezekiel Che c'ho pure l'arma giusta mamma mia Ma perché Ezekiel è? Non so però Spacco Ecco è sempre questo quadrattuono Non l'avevi già ammazzato Sì però qua ricompaiono Capito? Che poi io non ho capito gli altri che hai ammazzato No 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 Si devo trasformare prima Guarda che sta per terra Come hai fatto con quell'altro Eh sì penso che si è Mamma quanto tu... Cioè vieni che mi viene a zosso Easy così vai Proprio sciallo Porca miseria Eh mamma mia Comunque quello di... Sei proprio un bigliacco Ma chi? Cioè lo vedi? E la super anche C'ho pure la super Che dici? La famo? Sì usala un po' Dopo le la fanno Mamma mia defotenza proprio Ariazzate Gli fam male la pancia Deve andare a cagare Hai visto? Dove fai... Mamma mia tu pensi che ho finito Invece no Cioè adesso ho finito Muorici Eh manco Ah ora si trasforma Stai dimostrando di avere stoffa No è scappato E scappano si Se le cagano sotto E devi fare visto C'aveva pure mar di pancia Va 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 in bagno Quindi intanto Mi è purifico Perché così Così se fa insomma Ehm Vediamo la prossima ambientazione Qua ci lascia sempre Ecco infatti Lo stavo a dire A un platform Secondo te devo saltare Sì Mamma mia soppopò Cioè sembra che non ce la facevo Invece Cambio arma Non si sa mai Anche se Devo essere sincero Era l'arco che volevo Per far i salti più controllati È vero può essere che moccato Oh grande però Non si muore mai Ehm Deve scendere O devi tornare Dicendo Che dici Non lo so Vabbè ormai ce sto scendo Però chissà che c'è stava Alla su Muore Vediamo Salta Tranquillo C'è i riflessi quelli Dei 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 Sai che c'è Ti prendi l'arco Sì No non è l'arco È I pugni Però dei quasi fondanti E ma non puoi più allungarti Un lo so più allunga però spacco Boh Vabbè Senti se starà là Una motivazione c'è sta Lo vedi Sì Vai vai Mamma mia che paura Mamma mia guarda qua Non c'è manco bisogno Che tocco per terra Weee Finito Tranquillo C'è molto molto tranquillo C'è due anni Oh eccolo Vabbè noi stiamo a seguire questa Ma che vuole Boh Boh Spacca tutti Per meno Ma vai in acqua No Secondo te va in acqua No no Fai Qua ci stanno delle piattaforme Vai vai Guarda Lo vedi Magari mi farò quello simpile Cioè Uno deve capire Aspetta la piattaforma Poi salta Aspetta la piattaforma E c'è sta Lucifer Stiamo ancora Siamo ancora Sott'acqua Scegli arma Boh così ti impari Eccole Non ti preoccupano Arrivano Io pensavo che venivano a finire in idea Ma Si sta allontanando Si sta allontanando Ma Qualcuno No Dovrebbe arrivare No Vedi Si avvicinava Sei sicuro? Non si avvicinato Sei sicuro? Guarda come ho perso Guarda come ho perso Oh Ma non muora sto personaggio Ah devi attendere praticamente le cose Ah Senti Joe No Non ce la fai Va bene Era così Lo sai che c'è Devi vedere quando ci sono Vedi tipo questa Forse ce la fai No Non ce la faccio Ok niente Io però ci provo perché sono moriero Mamma mia Vedi Ce la faccio pure con questo Lo vedi Tieni gioco Abbiamo un po' di vite Tieni Tieni E' fatti T'ho passata Ok grazie Ce la fai Ce la fai Ce la fai Tutto Non lo so Aspetto che non si sa mai Mamma mia Guardalo Guardalo Mamma mia Che c'è un salto Ah era fatto Dovevo atterrare Sì Alla no Puoi andare pure su Tanto No Ma è che ho usato la super Quindi volevo Vabbè te fai i pezzi Dei piattaformi I combattimenti Perché tanto Me sa Però guarda Che figata Pare che c'è lo schermo Un po' ghiacciato Eh ma pare poco Che c'è sta tipo L'universo E cose Stelle Mamma Cosa Che ne so Cose che vedo io adesso Ce n'è in alto Perché c'è la nera Ammazza Ammazza Prima quello che ti spara Va bene No Ai 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 Scappa Parà No ti sei purificato Parà Ah cazzo è vero L'hai purificato Non hai purificato È vero cazzo Mi dimentico che E' un altro tasto Guarda Che è sto salto Matto Ma so tutti qua Porca miseria Ma pie Oh se vuoi Pia te l'allarma Dici Come te parate come te trovi è ormai portarci loro è un contro tra e porta io ero contro contro altri altri due grossi prima e diceva perché è chiaro ma ben solenti mentico di grosso scrivetelo nei commenti gioca meglio tau è probabile è probabile no solo nei combattimenti poi nei piattaforme come vado al discio io ma cazzo in aria comunque grande doc facci vostri una cosa importante dice che faccio gli urletti lo sai che non me ne sono reso conto però effettivamente effettivamente faccio un po di urletti tipo una dimostrazione allora c'ho una cosa una fobbia giù per le no per le api no però per i calabroni e vespe lo sai la differenza tra api io esteticamente poi non so vabbè fondamentalmente che i calabroni e vespe comunque vengono più volte tutti bastanti ah ok comunque no io c'ho la fobbia per i calabroni e vespe i vespe sono quelle con i piedi in stretto e il calabroni è segnala l'ape però non è geloso ok e se li vedo proprio faccio gli urli proprio da donna e scappo io li dico capace che sei chiuso a casa tua no mi ricorda all'inizio che quando stavamo registrando porca troia a casa tua chiamavi tua madre per farla venire a spostare a un'ape però vabbè però amata la pombo dai madonna vaffanculo c'è giù basta non puoi oh premi ho premuto eeeh basta senti giù dammi a me che ho fatto una vita eh non l'hai preso eeeh vaffanculo io li tiro un colpo e questo qua e quello è agile vai rubagliela si moglie la rubo vediamo un po' vediamo un po' che sta da fa' scappa attenzione madonna pezzo di merda rubaglielo scudo visto che tu stai così ritorni con l'arma del b no voglio tenermi questa che prima ho fatto una brutta figura e vorrei un attimo capirci capito capirci capito eccolo vorrei tipo fare un po' così insieme un po' gasato allora ma allora l'unica mostra che gli fai male è quello qualcosa di ritardato eh come dico beh anche tu esatto vedi si 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 oh ok quello è morto e si quindi capito devi capire quello che fa male capito questo non mi fa niente anzi se lento e sei anche preda per i conti insomma guarda che scarica guarda tanto perché lo so che ti piace questo eeeh e poi va in aria e tu 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 ma è tu 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 no si ma ma sempre fatto sti salti che mi ricorre come un masco si hai mirato ahahahahah hai paura ma hai paura ok è andata è andata dai ho ripreso un po' la mano no addirittura ero contro 3 no come a te capito oh scusa eh eh 3 più 3 eh vabbè insomma quindi stavi dicendo che se ah qua mi fa camminare ah ok tu leggi ok insomma abbiamo stiamo avendo qualche problemino eh torpo fanatici di tre piedi insomma dai eh che stai dire eh qui l'ha detto come ho detto chissà cosa pensava l'ha salvato giusto da solo penso ok bella la vedo qualcosa che si muove però ragazzi io direi di fermarci qua perchè non vorrei prolungarci si magari ci mettiamo davanti di 10 minuti chissà coca cosa coca 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 ci aspetterà si coca guarda che figata quando si appoggiano ai lati quest'arma dico quando si appoggiano ai lati tutti gli affarini ah si sembra che ha tipo le ali si 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 ok e quindi vi lasciamo a queste immagini spettacolari degli affari che si appoggiano si al prossimo episodio bella ciao a tutti ciao ragazzi ciao 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 Grazie per la visione!